Grazie a tutti. Guardate come incedono su cocchi trainati da cavalli bianchi di siccione con finimenti d'argento. Guardate quali vesti e quali oggetti suntuari acquistano, guardate quanti schiavi mantengono e quali testini organizzano. Neanche fossero diventati oligarchi inveterati, senza contare che alcuni di loro vengono riccamente remunerati anche se le loro decisioni o indecisioni vi conducono alla rovina. Pensate agli edifici pubblici di oggi e agli edifici privati della classe dirigente. Confrontate gli uni e gli altri con le modestissime abitazioni di Temistocle, di Milziade e con la sobrietà privata degli anni in cui la città costruiva i propilei e il partenone. E' facile liquidare questi discorsi con un'alzata di spalle, il solito qualunquista brontolone. Ma dietro a questo cambiamento che voi constatate nei vostri demi, nelle strade che percorrete quotidianamente, che a malapena ricevono una mano d'intonaco ogni trent'anni, dietro a questo cambiamento c'è un profondo mutamento nella concezione del vivere assieme. Voi conoscete per esempio Androzione, quell'uomo che dovrebbe essere affezionato all'Atene antica, se non altro perché ne studia le origini e le istituzioni. Ebbene, Androzione, in qualità di uomo politico, è giunto a rubare gli arredi sacri e il denaro dovuto alla dea, macchiandosi di un'impietà tanto più grave in quanto offende anche la nostra religione civile. Ve ne ho parlato in assemblea anni fa. Egli scambiava i simboli della gloria, il nome della quale sempre il popolo di Atene si è sacrificato, con le meschinerie di una facile ricchezza, ignara di qualsiasi condivisione. Oltre che, è triste dirlo, di qualsivoglia buon gusto. Un giorno Peric le ha detto che la nostra ricchezza non è vanteria di discorso, ma opportunità di azione. Non consumo vistoso, capitale da far fruttare, cavalli, pellicce, ma prosperità diffusa, beni da condividere con gli altri. A maggior ragione, in un periodo di crisi, è essenziale che questo valore sia rappresentato dagli uomini pubblici. E se è vero che sono forse proprio i decreti pubblici a plasmare le mentalità, più ancora della scuola, delle palestre, degli spettacoli, d'altra parte è altrettanto in dubbio che se voi tutti, cittadini, avrete nobili ambizioni, i retori e i politici si adegueranno, mentre se vi mostrerete proni al peggio, essi persevereranno nel malcostume, offrendo un modello cattivo a coscienze friabili. Pensateci bene perché, secondo l'adagio, sarete giudicati simili a quelli che mostrerete di amare e di proteggere. Io pavento già oggi i segnali di questa involuzione, che può favorire soltanto i pochi sui molti. Vedo sempre più chiaramente la ricchezza ostentata, arrogante, nelle mani dei pochi notabili, che contribuiscono alle spese comuni e a loro discrezione e invece di semplici tripodi erigono tempietti, edicole, monumenti e pretendono di essere chiamati benefattori della città in lunghissime iscrizioni onorifiche messe bene in vista. Vedo in combente un sistema economico nel quale le liturgie vengono sostituite dall'evergetismo, la costruzione di navi viene abbandonata e i giochi e le feste, sempre più magnificenti e sempre più vuoti di senso, vengono affidati alla spontanea e pelosa munificenza di privati membri dell'aristocrazia, quegli stessi membri che così di fatto comprano la loro futura carriera nelle magistrature pubbliche. Vedo un mondo con minore partecipazione, nel quale tutti trovano più piacevole coltivare la propria terra piuttosto che occuparsi di politica e nel quale la stessa parola liturgia si svuota di significato passando da servizio verso il popolo, a spesa, to court, e poi magari un giorno, chissà, al senso di servizio nei confronti di un despota o magari di una divinità. Non amo fare la Cassandra, mi limito a interpretare ciò che vedo. Da un lato rilevo che la nostra democrazia non è una disciplina che si insegna a scuola, non è il frutto di un'educazione coercitiva. Da un comune sentire, qui ad Atene, come e più che in altre città del mondo greco, è nata quell'humus che ha garantito lo sviluppo di istituzioni democratiche, l'humus condivisa che è sottesa a tutti i discorsi che voi ascoltate in assemblea. Quell'humus che ci affeziona nonostante tutto al nostro regime, anche quando seduti dal barbiere, ci lamentiamo che non siamo mai stati governati peggio. D'altra parte, se alzo lo sguardo oltre i nostri confini, vedo incombere il pericolo del regno di Macedonia, contro il quale già più volte vi ho messo in guardia, e oggi, alla vigilia della missione che mi porterà alla corte di Filippo, ve lo ribadisco una volta di più. Quel re barbaro, tanto bravo stratega quanto uomo dissoluto e intemperante, mira a conquistare la Grecia appoggiandosi sulle oligarchie delle varie città, che sono convinte di non perdere i propri privilegi, anzi di poterli rafforzare. Se noi cadremo sotto il regno di quell'uomo, le nostre venerande istituzioni e consuetudine non potranno reggere un giorno di più, o se reggeranno, perderanno di un colpo tutto il loro significato. Del resto sono in tanti a ritenere, e non da ieri, che questo regime democratico che dura da 150 anni non sia altro che un'onda di momentanea follia. Cittadini, vi avevo promesso il racconto di un episodio della mia vita e invece vi ho riempito la testa di riflessioni, analisi, profezie. Avessi dovuto narrare nel dettaglio quell'aneddoto, sarei dovuto partire da qui, da questo teatro, perché proprio qui, due anni fa, mentre facevo il corrego di un coro di giovani sotto gli occhi di tutti voi, o dei molti che c'erano, io ricevetti un pugno in faccia. Sì, un pugno in faccia, da parte di un ricastro basso e arrogante che odia i cittadini onesti e che ce l'aveva con me da tanto tempo, da quando, poco dopo la morte di mio padre, entrò in casa mia insieme a suo fratello, minacciando e insultando me, mia madre, mia nonna, esponendo tutti noi e soprattutto le donne alla turpitudine del suo linguaggio, alla violenza e alla sua boia. Reclamava pretestuosamente uno scambio di beni, pensando così in realtà di derubarci dei nostri averi. Per quell'irruzione, egli fu multato di mille dracme da un giudice popolare, un certo Stratone del Falero, cittadino modesto, per bene, che non incedeva sui cuturni ma su semplicissimi calzari azzurri e si teneva lontano dalla vita pubblica e dalla politica. Ebbene, Stratone, il giudice, dopo aver resistito ai suoi tentativi di corruzione, subì la sua subdola vendetta, finendo addirittura per essere privato dei diritti politici. Ora, cittadini, media, perché questo è il nome dell'uomo, non è un problema solo per me. Quando entrò in casa mia con il suo atteggiamento sprezzante, il suo lessico licenzioso, egli entrò in tutte le vostre case, proponendo un simile modello di uomo e di cultura. Quando denigrò e punì il suo giudice, egli attentò alla tenuta stessa del nostro Stato. Perché voi certo ricordate che neanche 70 anni fa proprio l'esautoramento o l'addomesticamento dei tribunali fu il primo passo verso l'abbattimento della democrazia. Grazie.